Una regita di Natale che ha suscitato l'interesse di tutti e un lavoro preparato nei minimi particolari che questa mattina ha entusiasmato i presenti. È l'iniziativa che si svolta nel presso Nicola Scrin di Via Borromini che fa parte dell'Istituto Comprensivo Don Milani a Gera. Gli alunni hanno dato il meglio di loro stessi e gli applausi finali hanno rappresentato la giusta ricompensa. La scuola oggi ha organizzato una giornata particolare che si ripeterà domani pomeriggio nella piazza Roma proprio per dare anche a tutta la cittadinanza la possibilità di vedere gli spettacoli che la scuola organizza coinvolgendo un numero di alunni molto elevato, circa 350 alunni che rappresenteranno il Natale di oggi e il Natale del passato cogliendo tutti i momenti di indreccio tra i vari periodi storici in cui si è festeggiato il Natale. Questa scuola sta proseguendo il suo ruolo di custode privilegiato per quanto riguarda il Natale del presente e del passato. In questo viaggio ideale che questo bambino ripercorre ha ripercorso tutta la storia del Natale di ieri e del Natale di oggi. I bambini naturalmente hanno lavorato assieme e hanno condiviso tanti momenti. Tra l'altro hanno anche sperimentato i valori universali della pace e della fratellanza riportando il messaggio della capanna di Betlemme.